Raffaella Rao, associate partner di Signum International, è responsabile del Dipartimento Ricerca di Governance Consulting e si occupa di ricerca diretta di dirigenti e di consiglieri per i CDA e gli Advisory Board. Lavora quindi a stretto contatto con ambiti e settori tradizionalmente maschili e direttamente toccati dalla legge sulle cosiddette quote rosa, che sta portando lenti ma profondi cambiamenti. Dopo la legge 120, che è appunto la legge sulle quote rosa, la percentuale delle donne, i consigli di amministrazione, era intorno al 4%, 5%. Oggi siamo arrivati al 7%, che è ancora basso. Però c'è da dire anche che con il DPR di attuazione delle modalità di accesso delle donne o comunque che favorisce la parità di genere nell'accesso ai CDA, per quanto riguarda le società pubbliche, su un panel di oltre 2.000 aziende e società partecipate, controllate mi scusi, dallo Stato, la percentuale delle donne oggi è al 4% dopo l'applicazione delle quote rosa. Se addirittura si prendono in considerazione le società partecipate dallo Stato, quindi non solo quelle controllate ma quelle partecipate dallo Stato, le società diventano 7.000, su queste 7.000 il 13% è il valore delle donne presenti nel CDA e deve ancora aumentare. La legge sulle quote rosa riguarda i consigli di amministrazione e gli organi di controllo delle società quotate delle controllate pubbliche e prevede, in caso di inadempienza, vari gradi di sanzioni che culminano nella decadenza del consiglio di amministrazione o degli organi di controllo. La risposta delle società per ora è positiva, dice Raffaella Rao, e le candidature femminili vengono considerate con attenzione. Sono molto ben accette, nel senso che quando noi proponiamo delle candidature di genere femminile per i CDA e gli advisory board sicuramente c'è un'apertura da parte dell'azienda imprenditoriale al pari di qualsiasi altra candidatura però la donna nel CDA deve essere sostanziata da un profilo, da un background che è assolutamente in linea con il compito che deve andare a svolgere. Quindi lì poi la parità di genere nella scelta delle candidature si annulla perché è la professionalità che conta e non il sesso, la nazionalità eccetera eccetera eccetera. Perché è la professionalità che conta, un CDA che funziona è un CDA che non rimane evanescente, non è un pensatoio socratico. Chi ne fa parte deve essere preparato e contribuire in maniera attiva e in questi ambiti le donne manifestano un particolare piglio contributorio. Le donne solitamente si preparano e poi perché hanno il coraggio di prendere talvolta le decisioni impopolari perché quello che non capiscono lo chiedono, lo richiedono e perché anche un po' per nostro ritaggio sociale cerchiamo di, se una cosa la facciamo la facciamo molto bene, abbiamo un certo orgoglio, cerchiamo di dire delle cose non banali, non ci riusciamo sempre però cerchiamo di farlo. Ma oltre al mondo delle imprese in Italia sono ancora troppi settori in cui le donne stentano a trovare spazio e riconoscimenti. La politica però, dice Raffaella Rao, sta dimostrando di poter davvero indirizzare il cambiamento. Oggi parliamo di sette ministri su 21 con portafoglio sono donne e donne con un CV si legge e sono molto importanti. Fondamentale nel difficile cammino verso le pari opportunità di genere è salvaguardare la diversità, quella che rende la leadership femminile determinante per lo sviluppo del sistema economico, proprio perché è differente e complementare a quella impronta maschile. C'è una leadership femminile, c'è una leadership maschile e la diversity, la diversità è proprio questo, altrimenti non ci sarebbe bisogno di affermare la parità di genere, non ci sarebbe bisogno. Un valore del quale la nostra società non può più fare a meno. Per questo progetto Donne Futuro, idea vincente dell'avvocato Cristina Rossello, si propone di riconoscere, sviluppare e valorizzare giovani talenti femminili attraverso percorsi di tutoraggio ad altissimo livello che coinvolgono professioniste affermate. Penso che a parte l'iniziativa molto meritoria, abbia dei tratti distintivi che dovrebbero essere ancora di più valorizzati, perché sono un buon esempio da dare e la formazione si fa anche con l'esempio, per cui direi che tra questi tratti distintivi che subito mi sono saltati agli occhi, sono uno di puntare su un target giovane, quindi non su persone molto senior, due il fatto di far emergere la meritocrazia, tre del role model, quindi si affiancano queste ragazze che hanno determinati meriti a delle persone che aiutano con l'esempio, quello che voi chiamate le madrine, sul sito è specificato come madrine, ecco lì c'è l'esempio, ed è importantissimo, ed è importantissimo. Un altro tratto distintivo dell'attività di progetto Donne Futuro sono i convegni, dedicati al contributo femminile nel mondo delle professioni, nell'arte, nello sport e nelle imprese. Il punto di forza è quello di richiamare l'attenzione su un tema così importante per l'economia, perché poi non facciamo tanto rumore per nulla, dobbiamo fare rumore perché poi si vedono degli effetti e oggi questo cambiamento può dare degli effetti sull'economia, dobbiamo pensare a questo, quindi non è perché per mettere una medaglia su qualcuno, su qualcosa, capisce? Il valore che possiamo creare è questo, per oggi e per il domani e quindi invitare non solo donne, quindi non creare un club, ma estenderla a questi uomini e non convincere soltanto le donne, ma agli uomini che questo genera valore e si mette in circolo è fondamentale. E alle giovani donne che si affacciano oggi sul mondo del lavoro, Raffaella Rao suggerisce Pur divertendosi, facendo una vita normalissima, bisogna studiare, 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 sempre, sempre, ancora oggi, ancora quando si raggiungono determinati ruoli, bisogna continuare a studiare, perché questo è cibo per la mente, capisce? Non bisogna spegnere la mente.